Buongiorno da Edo. Prima di addentrarci nelle news più tecniche, una notizia dell'altro giorno che mi ha colpito. Sto parlando di una richiesta avanzata dall'organizzazione no profit statunitense Natives in Tech alla Apache Software Foundation di cambiare il suo nome per rispetto verso i popoli indigeni americani e per rispettare il proprio codice di condotta. In un blog post, i membri di Natives in Tech Adam Rekvlohe, Holly Grimm e Desiree Kane hanno accusato la Apache Foundation di appropriarsi della cultura indigena per scopi di branding. Citando le parole del fondatore di Apache, Brian Bellendorf, descritto nel documentario Trillions and Trillions Served, in cui ha spiegato di aver voluto un nome più romantico rispetto a termini classici come spider e di aver scelto Apache dopo aver visto un documentario su Geronimo, il gruppo ha dichiarato Questa presentazione romantica, fuori moda, dello spaghetti western, di una comunità che invece è vivace come morta e scomparsa per costruire un'azienda tecnologica per il bene comune è tanto ignorante quanto offensiva. Il trio ha sfidato Apache a mantenere il proprio stesso impegno nel codice di condotta di essere attenti alle parole che scelgono, scegliendo appunto un nuovo nome e ha negato che la tribù Apache esista solo in un contesto storico passato citando otto tribù indiane e americane, riconosciute a livello federale, che ne portano il nome. Brian Bellendorf, direttore generale della Open Source Security Foundation e cofondatore di Apache Software Foundation, non ha immediatamente risposto ad una richiesta di commento ma un portavoce della fondazione ha dichiarato a The Register di ascoltare le preoccupazioni dei popoli nativi americani e di essere alla ricerca di alternative per affrontare la questione ma al momento non ha risposte pronte. Naturalmente come sappiamo altre realtà dell'industria tech e non solo hanno abbandonato l'utilizzo di nomi e immagini relativi alla cultura dei nativi americani. Ad esempio nello sport americano i Cleveland Indians nel 2021 sono diventati Cleveland Guardians e l'anno scorso i Washington Redskins hanno cambiato nome e logo e oggi sono i Washington Commanders. Anche nei settori del consumo stanno cambiando nomi di prodotti e brand. L'ultimo, non ancora confermato ma di cui si parla, è quello della Jeep Chiroky. Insomma, volevo aprire con questa news che ve lo dico, secondo me noi come italiani facciamo molta fatica a comprendere, commentare, sono cose culturalmente molto lontane da noi e che ci possono sembrare persino ridicole. Di sicuro i fondatori di Apache Foundation non avevano intenzione di offendere nessuno ma d'altra parte la sensibilità a questi temi negli Stati Uniti è altissima. Quindi, non lo so, chiedo l'aiuto del pubblico, pareri? Oh, cambiamo argomento, parliamo ora di Intel e del lancio dei suoi nuovi processori Xeon Scalable di quarta generazione, chiamati Sapphire Rapids. Intel ha annunciato il lancio di questi nuovi Xeon martedì scorso. Questo è il secondo lancio consecutivo di una CPU per data center da parte di Intel che è stato ritardato più volte, dimostrando che la società sta ancora cercando di recuperare il terreno perduto, mentre si ingegna nel piano di ripresa architettato dal suo CEO di quasi due anni, Pat Gelsinger, che era un veterano di Intel. Ricordiamo che la terza generazione di CPU Xeon Ice Lake è stata lanciata quasi due anni fa dopo che il processo a 10 nanometri del chip aveva subito ritardi multipli per diversi anni a causa di problemi di produzione. Questi ritardi hanno costretto Intel a rilasciare CPU per i server basate sul suo vecchio processo a 14 nanometri prima di Ice Lake. Dopo aver risolto i problemi con il processo a 10 nanometri, Intel si è spostata su una versione più avanzata del processo e lo ha ribattizzato Intel 7 l'anno scorso perché la denominazione dei processi non segue più il dimensionamento effettivo dei transistor sul chip e Intel ritiene che il suo 10 nanometri potenziato sia più paragonabile alle capacità dei suoi concorrenti asiatici TSMC e Samsung. Quindi il processo Intel 7 è entrato in produzione di massa nel 2021 con i processori core di dodicesima generazione per il PC e ora viene utilizzato per fabbricare i nuovi Xeon Sapphire Rapids. Tuttavia la società ha ritardato la produzione più volte nel corso dell'anno poiché ha dichiarato che le CPU avevano bisogno di ulteriore tempo di convalida del prodotto e della piattaforma. Naturalmente poi Intel ha accompagnato il lancio delle CPU con una serie di superlativi troviamo il numero più alto di acceleratori integrati di sempre lo Xeon più sostenibile di sempre la CPU più testata e resistente il modo più efficace per il training delle IA e ha anche sostenuto che Xeon è l'architettura più scalabile e flessibile del pianeta è che le migliorate Intel Software Guard Extensions in Sapphire Rapids sono la tecnologia di computing confidenziale più ricercata aggiornata e implementata nei datacenters sul mercato oggi. Ciò che Intel non ha menzionato è che AMD che è il suo rivale nell'architettura x86 ha preceduto l'azienda nell'introdurre le tecnologie DDR5, PCI Express 5.0 e Compute Express Link, CXL nei datacenters con i suoi nuovi chip Epic Genoa dello scorso autunno. Intel aveva inizialmente sperato di essere la prima a lanciare queste tecnologie in Sapphire Rapids ma poi i ritardi lo hanno impedito. Il nuovo Xeon di questa generazione supporta DDR5, PCI Express 5.0 e CXL 1.1 e include fino a 60 core che sono meno dei 96 massimi offerti da AMD Genoa. Vi lascio come sempre in descrizione gli approfondimenti vi consiglio in particolare il post di Foronix che va nel dettaglio sull'architettura di Sapphire Rapids se vi interessa avere un'idea più precisa di questa nuova architettura. Oh, e come ormai ogni inizio anno sono usciti i risultati dello State of JS che è un sondaggio online rivolto alla community degli sviluppatori JavaScript tra il 21 novembre e il 22 dicembre 2022 e creato da Sasha Grafe e Eric Burel. Il sondaggio va a scoprire i trend nell'ecosistema JavaScript i framework, i pattern più apprezzati, più usati o più desiderati e la cosa più interessante è vedere gli scostamenti con gli anni precedenti. Vi invito naturalmente a spulciarvelo per bene in autonomia ma qui vi do un assaggio con i dati più croccanti. Ma prima di tutto bisogna dire una cosa nominalmente questo è un sondaggio per tutta la community di sviluppatori JavaScript ma nei fatti la quasi totalità delle risposte è data da maschi, bianchi e americani quindi ecco, soppesati i risultati tenendo questo in mente. Partiamo dall'uso dei framework JavaScript e qui le posizioni sono fossilizzate praticamente da tre anni con React saldamente in testa e Angular e Vue che seguono a una certa distanza con gli altri timidamente a inseguire capitanati da Svelte. Anche sui framework server-side c'è una certa immobilità con Next.js che domina il mercato e Gatsby e Nuxt che seguono parecchio di staccati e anche qui SvelteKit sta rincorrendo e aumenta leggermente la sua quota rispetto al 2021. Qui c'è da segnalare il notevole aumento di Astro e la comparsa di DocuSaurus. Peraltro guardando invece i dati sull'interesse per questi framework Astro si porta in prima posizione praticamente è alla pari con SvelteKit e Next.js e se guardiamo invece la DX cioè la Developer Experience a guidare il gruppo sono sempre questi tre mentre Gatsby e Remix stanno incontrando parecchie difficoltà. Segnalo infine che il framework back-end per l'API di gran lunga più usato è Express seguito da Nest che quasi doppia Fastify e che il server runtime più usato è AWS Lambda seguito da Vercel Edge e Google Cloud Functions fine che i linguaggi back-end non JavaScript più usati dagli sviluppatori che hanno risposto al sondaggio sono Python, PHP e Java. Bene, direi che con questo possiamo chiuderla qui e chiudiamo con una puntata sostanziosa questa settimana io vi auguro un buon weekend fate i bravi, studiate i sondaggi, rilassatevi e ci risentiamo la settimana prossima Ciao